Come sta reagendo il governo secondo lei a questa emergenza? Eppur si muove, qualcosa si muove, sono passati da 3 a 7 miliardi, noi abbiamo proposte concrete, realizzabili, immediate, perché la gente ci chiede di essere veloci, per 30 miliardi, quindi se ci ascoltano, se ci coinvolgono, penso che facciano cosa utile a tutti. Lei avete chiesto come centrodestra un incontro con il Presidente del Consiglio e l'avete condizionato per votare questo decreto? No, non condizionato è una parola brutta, però faccio un esempio, il Ministro Speranza ad esempio è stato più volte in Lombardia, ha incontrato governatori, amministratori locali, così si fa, ci piacerebbe che se mercoledì arriva in aula un decreto che prevede iniziative a favore di famiglie e imprese, ci chiedessero come la vediamo noi, visto che ad esempio la Lega governa con il Centro-Este, Lombardia e Veneto che sono il 40% del PIL e il problema è lì, quindi non è un o non mi chiami o non ti voto come i bambini, è un abbiamo tante idee, ho sentito oggi agricoltori, imprenditori, commercianti, artigiani, partita IVA, Confindustria, chiamateci, usateci, quindi siamo a disposizione, certo se dobbiamo leggere le notizie sui giornali è frustrante. C'è un pericolo sud secondo lei, se questo virus scende al sud c'è un pericolo sistema l'Italia? I numeri dicono che in Regione Lombardia ci sono 900 letti di terapia intensiva, in tutta Italia 5400, in alcune province calabresi con centinaia di migliaia di abitanti 5, quindi non occorre uno scienziato per capire che prevenire è meglio che curare, quindi investire in medici, in infermieri e in innovazione all'interno degli ospedali aumentando la terapia intensiva è fondamentale adesso quando il virus non è ancora aggressivo perché purtroppo non occorre uno scienziato per dirlo, tenete questa registrazione agli atti che tutta Italia verrà coinvolta, quindi fortunatamente nel disastro Lombardia e Veneto sono all'avanguardia, altre popolazioni sono più a rischio. Perché il virus secondo lei ha colpito, perché si sa che ha colpito a nord? Poi saranno gli scienziati a emergenza finita a raccontarci cosa è successo, cosa non è successo, chi ha fatto e chi non ha fatto, abbiamo letto che ad esempio il primo paziente europeo sarebbe tedesco, ragazzi il business con la Cina, il business col mondo soprattutto nell'area più industrialmente sviluppata e quindi è chiaro che il controllare entrate e uscite non per spirito polemico, lo dico come nota di cronaca, avrebbe dovuto essere una priorità e quindi è chiaro che l'area italiana che ha più contatti col mondo e ha più interscambi col mondo è quella che sta a nord. Detto questo lasciamo il compito di fare i medici e rispettiamo tutte le norme. Che fare sul versante economico secondo lei? C'è un pericolo per l'Italia? Fare in fretta, sì, no, un pericolo. Io sono in contatto quotidiano con tantissime imprese, qua la cifra di 30 miliardi che come centrodestra abbiamo suggerito al governo di stanziare subito è bassa, rischia di essere tre volte tanto il danno per l'Italia, quindi l'importante è essere umili, ascoltare, noi settimana prossima rincontreremo tutte le categorie produttive, il rischio c'è, per esempio nel settore turistico c'è un meno 7 miliardi solo per gli alberghi. Dal male trarre un bene e ritrovare l'orgoglio di essere italiani, di fare vacanza in Italia, di mangiare italiano, di vestire italiano, di comprare italiano, di consumare italiano, questo serva da lezione anche perché il modello di sviluppo fondato sulla globalizzazione evidentemente è fallito. Il rinvio delle elezioni per ultimo cosa pensa del referendum? Se l'hanno fatto avranno avuto i loro buoni motivi, non penso sia in testa alle priorità degli italiani, ripeto per garbo educazione e senso di unità nazionale evocato da Mattarella se dessero un colpo di telefono a quelle che sono opposizioni in Parlamento ma sono maggioranza nel paese sicuramente farebbero un bel gesto.